Allora vado, abbiamo deciso che dobbiamo andare a ballarci, se mi spiegate, come ogni sabato. Ma se entriamo con Gianni Lover si ce l'ha narrato, 20 passi, 28 consumazioni, 13 distillati e 6 tavoli. Se entriamo con sogni, un tavolo e 2 consumazioni. Poi Martorello, pure tenendo un bello UPR, ma non so se mi piace tanto. Onestamente non mi piace fatica che ha gente che non conosce. Mi piace a gente che già sa che mi tratta e che mi va bene. Il locale è il City, un bello locale. Già ci siamo stati una volta, ci siamo trovati buono, abbiamo pure rusticiato. E il cocco Luno si è mangiato pure il cocco Guaglione, ma non l'ha voluto dire, lasciamo Peppe. Ma poi, questo qua te ne ho letto muori conto. Eh, ti ricordo. Noi in medica non ci pensiamo, l'unica cosa che mi ha decidere ancora, è una cosa molto importante, a Peppe lo vado a prendere, io non lo voglio di una macchina mia. Vado a prendere io, l'unica. Bravo, vado a prendere tu, perché io non lo voglio. Mannaggia, questo Peppe non prende mai questa cazzo di macchina, se non fosse il Sittamandello facendo. E' una macchina nuova e non la prende. Ma vi lo vuole così a cosa. Mmmh, se Peppe non vuoi prendere la macchina, cazzo di sole. Io non cago, però, cazzo di un giro e cazzo di Peppe. Perché è una scorta, ti capisco? E non mi voglio cagare! E' da morire! E' da tutti i vecchi capi! Bravo, bravo, bravo! Perciò, domenica, bravo! Ma domenica è sempre un primo! Mannaggia, ma domenica è sempre un numero uno, eh! Mannaggia, mi aveva fatto il suo cazzo! Voglio dire una cosa, un attimo, una cosa. Per piacere, facendo un po' questo, sto parlando io. Quando parliate, facendo un po' questo. Uno, perché sono domenica. Due, perché sono avuto e non vuoi sapere niente. Tre, perché i mari si fanno, ma non fanno la consumazione a dove finire. Avete capito? Vinto la consumazione. E allora, vai! Questa è la lista di qualcuno che andrà a ballare. Fammi controllare! Ah, fammi vedere un po'. Allora... Paoletto? Bene! Cilindro? Bene! Sandri? Bene! Tutto il cavallare è inutile che facci, sarà tutto pure il raggio? Non bene! Cilindro con gli amici? Non bene! Mari e Poli? Non bene! Peppe! Vabbia Angioletto! Sapete la patente! Quindi bene! Tu sai se Angioletto sapete la patente! Però bene! Oh! Chi c'è sta qui? Fammi vedere un po'. Emanuele Cavaglio! Bene! Borrelli! Ha detto che vieni! E va via esse Guaglio! Vieni, vieni Gianluca, vieni! Vieni Gianluca, vieni! Vieni Gianluca, vieni! Che è successo Gianluca? Mi dici qualcosa? Fammi sentire! Ma già c'è stata una realistica! Ma grazie a essere cazzata! E come è possibile? Ma non lo sai? Ho speso con il finestrato che è accoggiato! Ma non ti preoccupare, che ti consumano pochi! Grazie Domenico! Non mi sentite cosa facessimo! Non lo sai! Sei molto brutto! Che! Vieni! Vieni di questo passo! Vieni di Gianluca! Vieni di Gianluca! Vieni di Gianluca! Gianluca, stai mangiando il passo! Gianluca, scevra, mangi il passo! Ti Borrelli! Vieni di questa consumazione! Vieni di sana sana questa consumazione! Borrelli è stato cellulare quando parlo con me, Borrelli! questo è il vodka di San Sebastiano Brrrr Meno ma, Iai dove, ma non ti senti bene Iai mia maragola, sim, caccholo cazzo Pia cerco stanno a dominici Ma uno sui preopiti Spedro con la mano, la macchina è merda Ma non mi ha levato il hit quello che hai nella pezza Non mi ha levato il hit quello che hai nella pezza questa gente che ha cattato in tutto il giovane Ma non stanno proprio fuuri non sta andando proprio io lo sapevo che non l'ho aperto quel cazzo si è scassato con la macchina la macchina di papà ah guarda qua sta giochendo con la macchina mannaggia la p***a mannaggia pierre ci dai una mano mannaggia a bocchini voglio sempre una mano vieni a te mannaggia a bocchini io lo faccio scassi sotto in mano scassi perché il locale non è piaciuto no non è piaciuto che era all'aperto se non chiede a bordo mi va a dire che era all'aperto non mi va a dire che era all'aperto non mi va a dire che era all'aperto se ti avranno ancora di procurato qua lì c'è l'atteo passatoio che è a piedi se ti avrà a trarmi a voi che avete voluto venire con il PR il sito è buono il locale era all'aperto mi ha avuto il locale si vede 50 euro in tasse si vede 50 euro in tasse 50 euro in tasse 50 euro in tasse si vede 50 euro in tasse si vede 50 euro in tasse ti avuto il locale ma come stai? vai fuori a Bedania ci fai giocare a terra vai astro bello questo è induziato pure i segni del bello e ora con me non sbagliate più la capa e ora con me non sbagliate più la capa azzurri 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 magari è sudata la luce vicino a me ma che cosa si è fatto angioletto 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 azzurri 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 campanariello credi denari non mi fa la mano angioletto frate se no dovete prendere la casa ma quando dovete prendere la patente? angioletto andiamo a tutti gli istruttori angioletto man Addio putake azzurri gli uomini azzurri azzurri edStelle Mani E' tutto per voi? Voi, vado a me la mangiola Ma se stai scendendo fuori dalla carta, non mi sembra passare la mano, mannaggia a te, i tuoi cigli A me piacciono i cigli, è un panariello Mamma mia, questo è un panariello Cicci, si può passare l'uomo, sai? Voi, voglio fare la foglia rosa di mano, mi raccomando, prendi i denari Prendi i denari Ma non mi sta rotto con la zissa e sta mondialo, mannaggia Noi, siamo fuori i tuoi genitori Hai già in coppa i tuoi genitori Hai già in coppa i tuoi genitori Guarda te la mia staspetta Fai trovare la macchina E' bello che pì Voi andarci le gli sti pie ف siamo cintetti T électro e vaisse per i tuoi genitori Adiós Tutti da sandro Tutti da sandro Questa gente che vai fuori a Dofino L montre In quanto quanto siamo gli trazzo 20,50,80,% 300 euro ma che fritto ti fa? quindi vieni che solo per mangiare un mese finito ma cosa vuoi? solo che la consumazione ma che non è bene? sono un arancino di 3.000 euro al mese finito ma dove? e poi vanno dicendo che faccio i bruni vado a sempre stessi facci che ha detto, sempre stessa gente ma ora si va non è capace non è una maniera per me eh, si? Manoel, che vuoi giù? aiuto tutto qua ma ci rimbrogli oh, ma dove è questo caffè chiesto? fammi rio, fammi chiamare mannaggia, ci ha scudato il cellulare ma come è bello sta pezzo, mamma mia ma ora vengo proprio a buon letto mannaggia puttana, ci ha scudato il telefonino, e ora come faccio? questa gente a faccia di qualcuno aspetta che ora può ferire o ferire una rapa ma ciò la rapa chiesto? mannaggia, la miseria mannaggia, la miseria mannaggia, la miseria oh, ma tu cazzo e mi lasciate ma non è giusto? mannaggia, la miseria mannaggia, la miseria mannaggia, la miseria frate, miseria 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 come miseria? miseria non è ancora a tarapita ma bene, santo e credo che si sarà pure la gente che ha rannunziato ma fammi capire pure ma chi si veniva o no? chi si vede o no? ma chi si vede o no? perché io vede proprio successo vedi capo vedete hai fatto un foglio rosa qua del ragazzo qui vedi di bocca mi ha visto struttura le scelte la pazza è tornata a portare la domanda l'ha accompagnata da un genitore ma che cazzo? ma come cazzo? ha filmato il campanariello e il campanop ma chissà capo non l'aiuto proprio che le murarra con uccigli in braccio ma non c'è questo spazio il profetile mannaggia il misericordio il giorno su è fatto l'uno del pomeriggio l'uno del pomeriggio ma chi si condomina la maronna mia ma che l'oggi a Londra ma cos'entrò chi si cazzo i fratelli cazzo mamma mia buberilla a tutti quanti loro a dare che faccio sono andata a farci vedere con cosa l'uomo o per il non ha rapo oggi è lunari o per il cazzo se sei chiamato a una festa non è nascita ma lì fratele cazzo avrà giù avrà giù ma non c'è nessunara per il lunari tu andrai per la mia che scemo un bel freddo bravo, bravo Domenico, ti diceva per tipo tu quando l'avevo finito, no voglio aspettare, mica con me chiede, ha leggito il foglio rosa rancoletto. E' pure contento, chiede mia madre, la misericordia, la piscatissima in ciglia, poi diceva, l'annichilistruzzato fa per così cubo, ma guarda, è una cosa incredibile. Comunque ti dirò una cosa, mi pensi che l'altra volta è vattuta, un piro perché non ti piaceva il locale, ma direi che bichino, ma tu non puoi comportare così, tenevi una magione dentro la macchina, ma devi sapere cosa. E' successe una cosa grave, tu non puoi capire, lo calderai all'aperto a questi gioventi, non mi levano io, e poi mi sei in mano e mi faccio la poletta, e questo non posso accettare, e poi tutti i cilindri di una lancia con una macchina, bo bo bo, sta scritto pure in coppa bibbia, ho visto eh, ti vuoi leggere, fammi capire. Eh strunzo, ti vuoi leggere o no? Ehi, ma quella bibbia, quella lì sta dicendo che la devo portare al cielo, di chi? Tu prima hai cominciato a fuppire, a fare una cosa sorda per cambiare, e poi ti ti vuoi leggere, e poi ti vuoi leggere, e poi ti vuoi leggere, ma tu a questi luca e nani, facciamola tu, mi metti e i panni.